Tutti guardano alle differenze tra uomini e donne. Io guardo le somiglianze. Uomini e donne sono molto simili fra loro. Ad esempio, quando sono in fiamme. Perché mi hai portato qua? Non crederei ai tuoi occhi. Stai per vedere il cameriere più smemorato che esiste sulla faccia della terra. Ed ecco il vostro cameriere. Buongiorno, posso prendere la sua ordinazione? Sì, vorrei una caprese, grazie. Bene, posso prendere la sua ordinazione? Strozzapreti al ragù e scaloppini al limone. Bene, posso prendere la sua ordinazione? Io vorrei una caprese, grazie. Bene, e posso prendere la sua ordinazione? Strozzapreti al ragù e scaloppini al limone. Bene, e posso prendere la sua ordinazione? Allora, il signore ha chiesto Strozzapreti al ragù e scaloppini al limone e io ho chiesto una caprese. Bene, e da bere? Due bicchieri di novello. Bene, e lei? Un bicchiere di novello. Bene, e lei? Due bicchieri di novello. Bene, e lei? Un bicchiere di novello. Bene, e lei? E un bicchiere di novello. Ma che ha? Il bello deve ancora venire Ecco qua Ma non ci credo, dai Aspetta E' uno scherzo In questo risultato non ci trovo mai più E non mi telefoni Ed ecco il suo resto 10, 20, 30, 40, 50, 50, 100, 100, 300, 400, 500 1 milione 2 milioni 10 milioni Grazie, se torni a trovarci Buongiorno, lo posso essere utile? Sì, grazie Un tavolo per due Prego, se è arrivati